il mal di gola peggiora prendo subito qualcosa mal di gola forte interveniamo come va il tuo mal di gola male non passa puoi usare benactive gola guarda il suo principio attivo calma il dolore perché agisce in modo mirato sull'infiammazione proprio dove serve e poi tornare rapidamente in forma benactive gola pronto soccorso per il mal di gola sono medicinali a base di flurbi profene che possono avere effetti indesiderati anche gravi leggere attentamente il foglio illustrativo